Dopo il rimpasto dell'Aggiunta Comunale di Teramo, il consigliere di Forza Italia, Carlo Antonetti, alza la voce e chiede le dimissioni del primo cittadino Gianguito D'Alberto. Il consigliere forzista ha definito drammatica la situazione e ha parlato di blocco amministrativo, che si traduce in 50 giorni senza la convocazione del Consiglio Comunale. Ma veramente non piace nulla di questa aggiunta, non piace nulla di questo smodello di amministrazione di D'Alberto che ha finito adesso questo stilicidio del rimpasto, peraltro non dovuto se non relativamente all'assessore Cavallari. Diciamo che davanti a una problematica serissima, delle problematiche serissime che investono nella nostra città, l'amministrazione si interessa di fare giochetti politici per rispondere a quello o a quell'altro politico di riferimento. e si badi bene in una situazione in cui sono 50 giorni che non viene convocato il Consiglio Comunale, 50, e sono 40 giorni che l'amministrazione non risponde alla richiesta di convocazione di un Consiglio straordinario per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla delicatissima e grave questione del teatro comunale. Antonetti, inoltre si pone domande riguardo le cause del rimpasto, da scrivere per larga parte giochetti politici. Il sindaco si deve dimettere, questa è la realtà. Tutti questi giochetti, ripeto, giochetti che rispondono a papà Sandro Mariani, a zio di Dalmazio, a nonno Camillo D'Angelo, presidente della provincia che è uno dei pochi casi in cui si interessa un presidente della provincia così in maniera forte di questione del comune. Insomma, una situazione che non è più sostenibile per i cittadini e che deve essere interrotta nell'unico modo. Io ho detto, quando una squadra gioca male, quando è ultima in classifica, quando perde sempre, l'allenatore e il manager o si dimettono o si sostituiscono. Quindi qui è il sindaco d'Alberto che si deve dimettere, non i giocatori, non gli assessori. Tre mesi di litigi dove consiglieri di maggioranza escono le loro liste civiche o partiti per aderire al gruppo che ormai lo chiamo mesto e non misto. E questa è una situazione di sfacelo di un comune, non funziona nulla e ora Teramo ha bisogno. È un'occasione straordinaria per la nostra città, come tutte le altre città, avere i fondi del PNR così corposi, quasi 150 milioni. Teramo non sta facendo niente, siamo fermi su tutto e dobbiamo stare ad assistere a questo indecente spettacolo messo in scena da un sindaco che risponde a una logica gattopardesca, cambiare tutto per non cambiare niente. E noi non ci stiamo e quindi chiediamo formalmente e in modo vigoroso le dimissioni del sindaco d'Alberto.